Di Mio, Di Nardo, Giubatti, Marchegiano, Montezuma, Nerpegna, Piccinini, Colidori Peppino, Colidori Ragottini, Piazza, Fiorgetti, Rocchi Com Croco, Ministro e Modemistri presentati da Ponsigli Per quanto riguarda la discussione, per quanto riguarda i consentiti sono variati i 12 minuti e i 30 minuti Per quanto riguarda il primo minimo del giorno, regolare la situazione dell'opportunità di contenza per gli interventi in conseguenza dell'avversità atmosferte del 10.2019 Buongiorno a tutti, questa delibera di oggi riguarda i lavori necessari per l'interazione dei vecchi del 10 luglio scorso. In questa sede il Comune ha subito una serie di danni che sono stati poi un oggetto di verizia da parte dell'ufficio tecnico e a fronte di quei danni si è scelto di procedere chiaramente alla situazione di chi stessi con una forma diversa, con l'apertura di un mutuo presso la cassa del prodotto del testo, così molto visto da altrui, di fare importo ai lavori che effettua. Quindi i lavori hanno riguardato un po' tutte le corrucce di lavori che come vi ho registrato, non sono state sia da sistemazioni asfalti, sia da sistemazioni entri, sia da sistemazioni elettriche come necessari. Direi che il testo del Gerardo va, volevo fare una premessa, su questa delibera c'è un, nel riportare il testo della delibera di Giunda c'è un repuso a pagina 4, dove per riportare il testo della delibera di Giunda che ha dato avvio al procedimento, c'è scritto di approvare i lavori su un'ulgenza ordinati a Zezza per l'importo complessivo di 77,255 IVA compresa, questo è molto, è variato, è sulla delibera di Giunda è 91,5, come avete già verificato. Quindi questo è molto, non so, è solo un errore di materiale. Allora, detto questo, mi leggo il testo del deliberato, di riconoscere i sensi dell'articolo 191,3 del decreto legislativo 267,2 mila e successive modificazioni e integrazioni con le modalità di cui l'articolo 194,1 lezzerà e per le modulazioni spessi in premessa la legittima irregolarità dei lavori di somma urgenza derivati all'evento che all'evento che all'evento che all'evento del 10 luglio 2019 e si è abbattuto sul territorio comunale con pioggia di eccezionale intensità, violenta, grandinata e venti di cura, come specificato della seguentità per le attività di riconoscere la regolarità dei studenti lavori, di somma urgenza alti e di consentire il pagamento in favore delle ditte che hanno effettuato le stazioni di lavoro, dei servizi e formidure per proteggere le emergenze. D'accordo di Altonio con sede di Montona, puntata alle 12,4950 più IVA, 1089, totale 6039, nome, De Agis e Servinio con sede di Montona di La Grande 4, 2.120 più IVA, 166,40, totale 2.586,40, Setra con sede di Montona, puntata alla Santa Elena, 1.360 più IVA, 136, totale 1.499,96, De Agis e Servinio con sede di Montona, puntata alla Santa Elena, 14.299,98, più IVA, 3.300, totale 18.299,98 e il Service SRL con sede di Montona, puntata alla Santa Elena, di Capitale con sede di Montona, puntata alla Bari, 3.536,255, più IVA, 178,404, totale 4.300, 4.599, COGASS con sede di Montona, puntata alla comprensione industriale, 1.875, più IVA, 4.12, 250, totale 2.287,40, C supportingo con sede di Montona, puntata alla Santa Elena, una volta da San Pietro, 11.905 più IVA 2.619,10, totale 14.524,10 e a loro rimarco francese con sedi nostri una completa Cianpino, 3.610 più IVA 7.94,20, totale 4.804,20, di Cangro Roberto, con sedi non comuni, 4.089,38, più IVA 849,66, in totale 4.289,204, e di l'arte SRL, con sedi di Costantinopoli, con sedi di Costantinopoli 168, 3.570, più IVA 785,240, totale 4.355,40, totale generale escluso IVA 62.012,91, totale generale compreso IVA 75.492,55, di provvedere al finanziamento del debito di Euro 75.491,55, per gli altri riposti a un mutuo da accendere con la Cassa dei Costi e Prestiti S.P.A. in senso dell'articolo 302, seguente del decreto registrativo 267 del 2.000, di successiva modificazione e preparazione, in quanto non può provvedersi a norma dell'articolo 193,3 del 2, per il materiale di possibilità di utilizzare altre risorse diverse da indietro, in quanto non risulta disponibile avanzo di amministrazione video relativamente contro l'esercizio 2018, da ottimizzare rispetto al discorso ad attestare l'articolo 167,2 del 2, non risulta possibile finanziare il subito importo con maggiori trate o riduzioni di spesa corrente, non risultano disponibili problemi derivanti dalle nazioni patrimoniali, crediti e o destinati a finanziamento del debito. Grazie, grazie. Sì, perfetto. No, ma ho detto che mi presto il diritto alla forza dell'assessore dottor Polivar. Sì, sì, ho fatto il diritto, però l'assessore dottor Polivar. Ah, scusate, vivono che c'è un documento lo streaming, che comunque stanno registrando e sarà mandato in un'altra distruttata, che si indifferizzata. Tutto ciò che direte sarà registrato e mandato in un'altra domanda. Grazie. Saluto, segretario, presidente. Saluto, segretario, presidente. Saluto, segretario, presidente, sempre, colleghi giunti, consiglieri, cittadini. Allora, nello specifico, le lavorazioni sono state poi molte unici ditte. Il problema è quello di far conto ad un grande numero di lavorazioni su tutto il territorio comunale, che come sapete era una rete stradale piuttosto ampia, oltre agli edifici, e quindi l'ufficio ha risposto, secondo le specifiche competenze degli ordini di servizio, diciamo, su imponti presunti sulla base della perizia redatta dall'ufficio, come avete visto. Le lavorazioni più frequenti sono state, soprattutto, lavori stradali, rinunzioni di triche, rinunzioni di abilità, rinunzioni di vegetazione abbanduta sulle sedi stradali, con vari mezzi. Oppure, puricuro di punette, ci sono state delle lavorazioni più specifiche, come quelle eseguite dalla Seta, che consistono, appunto, nell'autosturgo, sbocco delle istruzioni condotte di scarico, l'emozione panchica, la maggior pulizia delle sedi stradali, oppure quelle sbocche dell'aeridarte, che si sono sbocche non sulla viabilità, ma su edifici comunali, come l'infissi, metà coperto all'aconovole, copertura, palestra con dei grandi, vittoria a campo sportivo. Io adesso, come direttore, si tratta soprattutto delle lavorazioni stradali, che il nostro territorio ha visto più coinvolte. In altri territori, io ho avuto modo anche di fare le sovrallotte di un'adilizia a Francavilla, qui c'è stato un caso molto più tramoso, gli edifici in quei quartieri hanno i mangi di copertura e poi, ovviamente, dai destinati abbiamo i milioni di edifici. Quindi, diciamo, la sfortuna, siamo stati fortunati, però, visto che ormai gli eventi si ripetono sempre più frequentemente, bisogna stare sempre in alletta e attenti, purtroppo. Poi accade che queste lavorazioni si sarebbero dovuto non effettuare ma diventano necessarie. Quindi, diciamo, i lavori sono stati fatti con un periodo anche particolare, perché ad agosto le vite solitamente chiudono 15 giorni, la scasse in mondo invece, in questo caso, sono resti disponibili, hanno compreso il problema e hanno lavorato anche nei giorni dell'agosto. Quindi, va bene, diciamo che in questo caso si tratta veramente di un evento caramidoso. Quello che, ovviamente, noi cerchiamo di portare in opera sempre più è il discorso della prevenzione, quindi attraverso le manutenzioni, delle sedi statali, degli edifici. Io, a tal proposito, voglio ringraziare anche i colleghi di Giunta, il collega Orlorano che sta seguendo tutte le manutenzioni nelle scuole, raccogliendo le segnalazioni, la collega Canosa che su tutti gli altri settori ci saranno molto da fare in modo particolare, se ne sono le attività. Per il resto, noi stiamo, invece, comunque continuando a lavorare sull'ordinario attraverso l'esecuzione e i lavori già previsti, già partati, di rifacimento dei manutenzioni stradali e di manutenzione degli edifici e stanno partendo anche da altri lavori che sono in fase di progettazione in effetti, sempre la manutenzione degli edifici sedi statali e altre strutture mondiali. Grazie. Grazie. Grazie, Assessore. Grazie. Grazie, Presidente. Buongiorno a tutti. Questa è una delibera, se vogliamo, obbligata per gli eventi e per come è stata la giusta sia dall'assessore al bilancio che dall'assessore al bilancio. ma vorrei richiamare l'attenzione di questa assemblea a come si è svolta la trattazione di questo punto all'ordine del giorno in commissione. perché, come ci è stato detto, noi facciamo questa di buona del regolamento perché vogliamo che si lavori in commissione piuttosto che nel Consiglio. Vogliamo un Consiglio agile, veloce perché vogliamo lavorare, vogliamo fare molto di più di quello che abbiamo fatto in questi due anni. Bene. Si è fatta la commissione, c'erano anche i componenti della maggioranza naturalmente e leggendo la forza del deliberale che addirittura era arrivata un giorno prima della commissione e abbiamo visto che si faceva riferimento alla vendicontazione e contabilità finale dei lavori. Quindi l'opposizione, la minoranza, dando seguito a un mandato ricevuto che è quello di controllo, ha chiesto finalmente di poter vedere questa riepondazione di fondabilità finale dei lavori. Così come, oramai è diventata una prassi, chiediamo anche le poche commissioni che si estende anche prima di questa riepondazione. E ci può essere testimone, l'assessore, ahimè, ahimè è sempre più aiuti perché ogni volta venire ben preparato, l'assessore ha le fidanze che, escusa le prime volte, adesso viene sempre molto documentato, che una volta mancano qualche pagina, qualche semplice, ma non è colpa su qualche valutazione delle lavori. Vediamo anche questo seminario. Sa che deve portare questo. Perché nelle commissioni occorre che si dia voto all'opposizione di svolgere il mandato ricevuto, che è quello di controllarlo. Bene, in quella commissione, noi siamo venditi, abbiamo parlato, abbiamo fatto delle partite, è stato anche un bel incontro, sotto ogni profilo, ma non quello produttivo, non quello per cui eravamo stati chiamati, che era l'approfondimento della questione. La bellissima se c'era è stata questa di riepondazione. E all'esco della riepondazione dovevano essere chiamati e certificati di collaudo di queste opere. Perché noi siamo deputati da fare questo. Questo è il mandato che noi abbiamo ricevuto. Beh, sa, io naturalmente ho messo a verbale il fatto che mancavano questi documenti. e che io volevo, naturalmente, però non c'era, né si è riusciti a ricevere i miei clienti. E io ho dato questo documento perfetto il giovedì sera, forse erano le 18, le 17. Allora, questo è l'andamento. Allora, io vi voglio ribellare questo mandamento. Perché siete voi che avete detto che dobbiamo valorizzare le commissioni. Che le commissioni devono lavorare. Che noi in Consiglio dobbiamo essere veloci più della luce. Ma questo non ci è consentito di fare. E questo lo sto dicendo proprio per rimarcare l'errore fatto nelle informe di questo documento. Non mi stancherò mai di rimarcare o non importa che me ne date l'occasione. E devo dire che con questa amministrazione, un po' così approssimata, ne avrò motivo e argomenti per rimarcare queste difficoltà. E questo proprio per essere succinti e rapidi e per non affollare, diciamo, questo Consiglio con i grandi cibili di modi, che ce l'hanno tanto di Rebita e la literazione di modi, faccio anche una literazione di modi. Quindi ne sono succinto e io mi asternò. Sebbene sono consapevole che questo è un provvedimento degli uffici, e non di questa amministrazione, ma la mia attenzione vuole essere di stimolo affinché questo non si abbia più a ripetersi. E sono due anni. Dopo due, tre milioni per alcuni aspetti siamo arrivati a capire che comunque in commissione ci si viene preparati. E ci si viene con il documento. perché noi vogliamo vedere i documenti. Ma non perché siamo curiosi, ma perché è il nostro mandato. E a ognuno, ognuno di noi deve avere l'impegno di svolgere il nostro mandato a piedi. E io ci credo. Per cui, ecco, sono costretto. Io mi aggrado alla stella. Grazie. Grazie consigliere. Io vi ricordo che quando ho subito il numero di recazzo, volendo queste... Questo non è il genere. Si dovremmo sforgere le deficienze formali, di documenti. Nulla mi pedisce le recazze che sono d'ufficio. Ma anche i presenti e penso consiglierà, ovviamente sarà neancura, perché immagino di aver capito di quali documenti si parla, di invitare alla prossima commissione gli assessori e qualora ci siano anche i presenti a fornire tutti i documenti, sarà già neancura. Richiamatene a te, perché non è che ti chiami documenti, e quindi chi deve censurare e chi è che la compagnia documenti, non chi non si è legato nei vostri testi, perché si è, però lei può avere due usure e due pesi, lei è il presidente di tutti. Certo. Prego, consigliera Scalzo. Buongiorno a tutti, sono buono sui singoli saluti fisici che abbiamo, io intervengo soltanto a supporto di quello che dice, perché chiaramente il presidente ci stimola da questo punto di vista, è davvero incomprensibile che a distanza di quasi tre anni non si sono ancora capiti quali sono i ruoli di garanzia. Lei è il presidente del Consiglio, è uno dei ruoli di garanzia, quello è della Secretaria Comunale. Ogni volta che c'è un'osservazione legittima giustificata da parte di un consigliere di opposizione, sistematicamente c'è proprio la giustificazione. Lei non deve giustificare, lei deve ascoltarle e la mettere le denunce dei consiglieri di minoranza. E possibilmente le terci ripara, non la figlia di consigliatura, possibilmente la giustizia, perché lo Stato che ha denunciato il consigliere Polidoni, lo sappiamo, è sistematico, è sistematico. Noi facciamo le commissioni, lo dico anche al sindaco, faccio un appello al sindaco, che ha sempre dato a Valenza le commissioni. E io non le ricordo quando veniva, perché trovavo un ammirorato di posto quello che faceva. Allora, non è possibile che noi arriviamo in consiglio e ci dobbiamo accontentare, come è stato detto, ha fatto questa frase, ci dà dei titoli. Non è possibile. Per Giunta, mi dispiace che solo arrivare, rilevare questo. È vero quello che dice il consigliere Polidoni, mi dispiace dirlo, ma l'assessore Tota viene sempre preparato. Mi dispiace, però c'è un po' di sindaco, ma l'assessore Cotro. Perfetto, ma forse si faccia sentire, insomma, perché una semplice reazione non fa testo. Però, purtroppo, è così, perché sa benissimo che questa professione viene analizzata così di meglio, in maniera approfondita e accurata, quello che poi sarà discusso in consiglio comunale. Sistematicamente mandano i documenti, questo lo deve ammettere, perché se facciamo le... Non mandano i documenti e non sono impreparati. E il preparato, perché nel momento in cui viene in commissione a discutere un argomento, ci deve fornire i documenti. Quindi, quando qualsiasi app che non è allegato, è il punto di provare l'imparazione, perché se devo venire in commissione, ma le devo portare carte. Lo sa che le chiediamo ogni santa volta, lo sapete benissimo. Anche perché è normale chiedere, se volete voi la condivisione, non del gioco, ci dovete mettere nelle condizioni di poterlo fare. Non si può fornire la scatola di punza. Questo per ribadire, così come è espresso dal consigliere Polidore, anche io in questo caso mi lascerò. Allora, io stavo rispondendo a Polidore. Esatto, nelle discussioni, quando si fanno delle affermazioni, innanzitutto non è mai, o come sono, dire sempre o mai, anche perché poi bisogna dimostrare la cosa. Quindi, magari per te a sceni, come Renko, delle volte, se chi ci ha detto sempre, evidentemente lo sa, delle volte in cui mancavano i documenti. Perché ultimamente questa osservazione è stata fatta più. Non penso che avreste avuto dubbi, o avreste avuto esitato nel far contare. Non l'avete fatto contare perché non è successo, perché non è vero. In qualche caso lui non ne ha compresi i documenti, o non ha compreso le mie spiegazioni. Ma questo non è un problema suo. E' un altro problema. Quindi cerchiamo la notte a compresi. La prima è un tecnico, a volte che io parlo di argomenti, ci do capisco che cosa succedere. Quindi non è quel il problema. In questo caso, io tutte le volte, insieme a voi, chiedo, e pretendiamo insieme al Presidente di Commissione, la fornitura di tutta la documentazione da parte dell'ufficio, che, come è sempre accaduto negli ultimi tempi, l'anzitiamo sempre, viene fornito in modo concreto. L'altro giorno abbiamo preso alto che quel documento, che veniva citato nella lettera, l'ufficio tecnico non ce l'aveva prodotto. L'abbiamo preso alto insieme, noi l'abbiamo chiesto, è ovvio che ci doveva essere. E quindi l'abbiamo chiesto. E' stato proprio il giorno dopo, un documento di tre pagine, proprio due giorni prima, non mi pare che fosse così tanto problematico da studiare. E quindi vogliamo fare il processo di uffici, ma io penso che gli uffici lavorino sempre in modo solerte, io in questo caso mi sento ringraziato perché è un scopo un lavoro, in un periodo di febbre, lavoravo in convergenza, seguendo le 11 vite su tutto il territorio comunale. Quindi ora fare un processo d'ufficio per un documento che in quel momento non era stato allegato per ragioni, per tante cose, non ce l'hanno messo, io però chiesto loro ragioni, ma ne parlo di persona, ne andiamo a parlare di qui, ma non in questa serie. Quindi è evidente che poi è stato fornito il giorno dopo, è stato mandato come stabilito, di regola, l'avete avuto in modo di studiare. Quindi questo non è un argomento, secondo me, perché il sempre che ha provato il riferimento l'euro è fondato, perché è accaduto questa volta, è stato fornito il giorno dopo, e quindi sono più soddisfatto del lavoro fornito, anche nel momento in cui c'è stata questa carezza, ma ringrazio comunque l'ufficio per il lavoro che svolgono quotidiano. Grazie. Forse sono stato un po' complicato. Nessuno qui ha criticato l'ufficio. Anzi, in questa occasione di emergenza si sono portati in maniera incognita. Il problema però è diverso. Allora, se voi collocate la Commissione, l'avete collocato voi, come oggi è stato collocato il Consiglio, il Presidente, il Segretario, si preoccupano di portare i documenti completi. Controllano prima di venire se i documenti ci sono. E io non consegno a nessuno di scaricare le responsabilità su altre. Se qui manca qualche cosa, come è successo nelle convocazioni, la responsabilità non è di chi doveva pigiare il bottone e mandare la perca. La responsabilità è del capo. Ed è capo se ha la forza di assumere la responsabilità. Allora, rispondendo il Presidente del Consiglio, magari lei non ce ne fa nulla in quell'occasione. Magari lei, non era lei il preposto a dover fare. Magari lei aveva dato pure tempestivamente disposizione affinché quell'atto fosse compiuto. Però lei è l'esponsiglio. Allora, è facile. E voi siete abituati a farlo. Non è mai colpa vostra. È sempre colpa di qualcun altro. Non è così. Se si è a capo di un'amministrazione, se si è assessore che deve relazionare su una delitica, bisogna che l'assessore, prima di sedire il sito del tavolo, controlli se i documenti ci siano tutti. E non occorre che ci sia un consigliere di ignoranza che rivendichi l'esercizio del proprio diritto e quindi verificare il documento. E cosa è successo? Ma non vogliamo dire tutto? È successo che l'assessore a rame io ho queste carte. Prego, vedete se ci sta. Come non la vedo? Dobbiamo avere i nostri uniti pure là. Io ho detto, per contesia, vi faccia vedere. Avevo un patto di carte così. Ci sono un preconsiglio di maggioranza. Non c'era tanto di... Io in questo momento ho visto le date. Ho visto che avevano tutte le date del 12 luglio. Quindi non ci poteva essere il preghi conto. Perché avevano la data del 12 luglio quando l'evento era del 10 luglio. Non è che ci volevano i servizi per verificare questo. E non è che la commissione si fa perché ci dobbiamo salutare. Ci possiamo salutare anche nel pari. E i cittadini devono sapere che anche le commissioni hanno un costo. E il costo lo pagano loro. E allora noi non ci riuniamo qui per accertare poi che nel fascicolo dell'assessore vuoi perché chi doveva mettere un documento non ce l'ha messo. E questo lo accertiamo in commissione perché un componente della O, la minoranza, chiede di poter estricitare il proprio diritto. E allora è più onesto dire sì abbiamo sbagliato, anche in altre occasioni ma abbiamo sbagliato, staremo più attenti e non faremo più commissioni inutili, costose, per la collettività. Questo è assumere le responsabilità ed essere davvero capi di un'amministrazione e svolgere le funzioni di assessore o di capo di un ufficio. Nessuno, nessuno, ripeto, nessuno ha mai criticato in questa situazione gli uffici e i dipendenti del Comune. La critica è politica ed è diretta all'assessore che è venuto impreparato, impreparata la norma che riguarda il bene da dire una cosa che c'è sotto l'aspetto professionale, preparatissimo, sotto l'aspetto personale, altrettanto preparato, sotto l'aspetto politico, perché lei ha un obbligo, ha un compito che non ha svolto. Questo è la cosa. Credo che i cinque minuti, se no, passano, è completato. Quindi non ho la mia dichiarazione di tipo, così risparmi i miei famosi cinque minuti. Grazie. Grazie a me. Ci sono altri interventi? Traio un altro. Grazie Presidente, saluto tutti coloro che ci seguono e i presenti in auto. Chiaramente io non posso che associarmi a quelle che sono state le osservazioni fatte dai colleghi di ignoranza, perché in Commissione c'eravamo, in Commissione ognuno di noi ha potuto vedere come quella di unione di Commissione fosse sostanzialmente inutile, perché mancando lo strumento calcine per valutare ognuno di noi se è approvata ognuno questa delibera, ci siamo ritrovati sostanzialmente a dirci, a dire grandi documenti nei prossimi giorni per cui sostanzialmente non abbiamo nulla di cui parlare durante la Commissione. Detto questo, è altrettanto condivisibile il ramarico per il fatto che sia stato citato l'Ufficio Tecnico come responsabile della situazione di questa mattina, perché se ci sono state delle, chiamiamole, disattenzioni da parte dell'Ufficio Tecnico è compito dell'assessore Arramo cercare di comprendere il motivo, ma nel momento in cui si arriva in Consiglio Comunale e nel momento in cui si arriva in Commissione come è stato prettamente detto è compito dell'assessore Arramo che viene in Commissione accertarsi prima che quella seduta di Commissione possa avere una qualche utilità. Se questo non avviene la responsabilità è tutta e intera dell'assessore. Detto questo considerando l'importanza degli interventi che sono stati eseguiti considerando il fatto che le ditte del territorio hanno effettuato i lavori, hanno prestato il loro servizio per risolvere alcune criticità che andavano immediatamente affrontate, io riconsigliere Caudi voteremo a favore questa delibera voteremo a favore perché riteniamo che nonostante le inadempienze dell'amministrazione comunale possa essere votata questa delibera. Per quanto riguarda un accendio più generale al ruolo delle commissioni io ne approfitto perché non è la prima volta che ci ritroviamo in una commissione consigliale in una condizione sostanzialmente di incapacità o soprattutto impossibilità di analizzare nel dettaglio quello che verrà discusso in consiglio comunale. Ora come è stato correttamente detto prima tutta la riforma che avete immaginato del regolamento consigliare servirebbe a migliorare e rendere più importante il lavoro delle commissioni. Io mi aspetterei un impegno da parte di tutti affinché almeno questo obiettivo va vendato nelle vostre intenzioni possa avere una concretizzazione. Responsabili di questo di questa possibilità sono sicuramente gli organi dell'esecutivo quindi i membri dell'aggiunta che vengono in commissione e allo stesso tempo non mi stancherò mai di ricordarlo la figura di garanzia del consiglio comunale che è il presidente del consiglio comunale. Ora noi stiamo vedendo anche a livello nazionale cosa significa essere ordini di garanzia ebbene io auspico che nei prossimi tre anni quelli che mancano alla fine di questa consigliata che non ha questo ruolo di garanzia del presidente possa essere rafforzato in questo più incisivo perché sono passati ormai troppi mesi e troppe occasioni in cui questo non è stato fatto e noi ci aspetteremo invece un salto di qualità in tal senso. Grazie. Grazie la parola al consigliere Montiuno. Grazie Presidente saluto lei il sitaco il consigliere l'assessore e il pubblico presente. Oggi ci troviamo a riconoscere il fatto di lavori di somma urgenza che a seguito dell'alluvione che ci sono state a luglio questo comune questi uffici hanno dovuto porre in essere per riparare ai danni subiti dall'alluvione e quando c'è la sommorgenza oltre ad avere dei tempi tecnici di fatto si crea formalmente sostanzialmente un debito fuori bilancio e c'è tutta una procedura per riconoscere questo debito fuori bilancio che è un debito non dovuto a cioè dovuto a mancanza di impegno di spesa per l'imperabilità degli eventi che si sono verificati. Quindi oggi riconosciamo un debito fuori bilancio tecnicamente di circa 75 mila euro e quindi qui qualcuno oggi anche faccio una prese io voglio ringraziare gli uffici che sono stati ringraziati a meno che le vostre orecchie funzionino meglio meglio delle nostre dall'assessore Gianni Tota io ho sentito il mio ringraziamento agli uffici e io mi associo all'ingraziamento da dirigente in giù per il lavoro fatto in quel mese in quel mese tra luglio e agosto un mese particolare per le ferie poi potremmo anche discutere io lavoro nel settore privato di come magari sono gestite le ferie ma è un altro problema io ringrazio i funzionari per esempio chi ha messo in piedi quella macchina per far sì che dai danni subiti venisse fuori il minore disagio possibile e ringrazio le ditte che a Ferragosto mentre chi ad Avergaiat lavoravano per sistemare le puche gli asfalti e quant'altro e a queste ditte oggi noi dobbiamo dire una cosa tutte le ottoni tra l'altro dobbiamo dire una cosa forte e chiara che qualcuno si attacca alla consegna di un rendiconto giustamente in certi aspetti perché sarebbe stato meglio avere una incommissione ma è stato consegnato con un giorno di ritardo con un giorno di ritardo quindi voglio dire a queste ditte ma anche ai cittadini che qui oggi qualcuno sta provando l'ennesima scusa per non votare il debito fuori il bilancio anche di fronte al fatto che quel debito fuori il bilancio è dovuto ad un aspetto puramente tecnico ad un aspetto eccezionale quindi dobbiamo oggi dire a quelle ditte e ai cittadini che se dipendesse da certi consiglieri comunali quei lavori che non si sarebbero fatti quelle ditte oggi non verrebbero pagate perché io caro sessore Falcone ho una domanda che ti faccio da due anni e mezzo che succede se oggi ci assegniamo tutti io ho votato tutti contro questo debito fuori il bilancio la domanda ovviamente è retorica quindi questo devono sapere i cittadini ora potete attaccarvi alle commissioni ai regolamenti a tutti gli articoli che volete perché è tipico è tipico quando non ci sono elementi di merito per attaccare una situazione una delibera un perso segno alle proprie ragioni che si vadano a cercare dei elementi di diritto e qui oggi se ci sono sono molto labili questi elementi di diritto per attaccare un provvedimento nella sua sostanzialità che ha permesso a questa città di affrontare un'azione di affrontare dei lavori di sondorgenza e oggi ripeto alcuni consiglieri comunali non vogliono riconoscere questo debito non vogliono che quelle ditte che lavoravano mentre loro erano al mare possano avere e riconviene le compenze dopo grazie grazie consigliere Luigi Pagliaro grazie 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 presidente saluto sotto il sindaco raggiunta i consiglieri i cittadini ci troviamo a discutere di una relazione che è stata messa in atto dal dal settore tecnico ben coordinata dalla dall'assessore dottoro che con efficacia e in maniera un po' cura ha ripristinato tutta una serie di danni generati dagli eventi atmosferici passati i cittadini devono capire che si sta mistificando tutto questo lavoro ben fatto dagli uffici lavoro che tra pareti è stato anticipato da efficaci opere di prevenzione io ho preso atto tempo fa del lavoro fatto per ripulire l'alto del torrente Saraceni che ha impedito molto probabilmente una nuova inondazione lì sotto oppure la paralizzazione dello sformatore amicio tutte opere che fortunatamente fatte appunto in maniera opportuna e ben realizzate hanno contenuto i danni in maniera davvero efficace contesto inoltre il termine sistematicità nella non presentazione dei documenti nelle commissioni è capitato purtroppo stiamo parlando di provvedimenti di urgenza ma che ci sia questa sistematicità da parte dell'ufficio dell'applicazione nel non consegnare dare in ritardo atti è qualcosa che ovviamente non sta nei cieli o nei piedi grazie non ci sono non ci sono non ci sono non ci sono prego sì prego come come spesso ho detto in questo consiglio comunale troppo più volte l'italiano è una bella lingua perché non lascia spazio all'immaginazione però questo concetto non viene recepito allora nessuno si è mai sognato inevitanamente di mettere in discussione l'ufficio tecnico tantomeno la sottoscritta si è riconosce da più e più anni che ha vissuto emergenze ben più gravi di quella che adesso stiamo discutendo basta ricordare la dedicata di 4 anni fa la sottoscritta è stata fino a 1 e mezzo dell'ufficio tecnico con l'ufficio tecnico per porre rimedio ad un'emergenza ad un evento davvero eccezionale perché la dedicata di quell'anno ebbe delle dimensioni di dati che poi non potete non immaginare cento volte superiore a questa purtroppo a questa grandinata quindi ci danno l'idea di mettere o di criticare l'operato dell'ufficio tecnico qui ritorno anche all'assessore che venatamente ha offeso la sottoscritta ma il fatto di avere competenze diverse non autorizza a dare a un consigliere praticamente dell'ignorante soprattutto perché forse lei ha ignorato il mio pensiero io mi ho fatto una questione politica non riuscite proprio a capire pensate come il consigliere perché lui ne ha ragione io ho messo in discussione l'inefficienza dell'assessore non l'incompetenza tecnica come l'ho anche precisato con io nessuno ha messo in discussione la competenza tecnica ma l'inefficienza sì lei in fase di commissione ha il dovere di fornire le carte basta seguire e rileggere il verbale perché sistematicamente le commissioni manda sempre la presentazione dei documenti a parte l'assessore di turno questo per dire anche che come il consigliere di maggioranza ha detto alle fitte che in questo contesto un lavoro pagato non hanno fatto beneficenza sono comunque pagate a queste ditte bisogna dire che se ci sono dei consiglieri di opposizione che si in questo caso si asseguono e perché a monte c'è un errore l'inefficienza di un'assessorata di una commissione che non ha fornito in tempo utile le carte non può utilizzare il pretesto perché noi in questo contesto stiamo esugiando l'inefficienza politicamente parlando la commissione l'avete anche riparito voi nel sbagliare il nuovo regolamento e praticamente diventava in base a questo regolamento il futuro e l'essenza di tutta l'attività amministrativa quindi voi non potete poi remare il genere fare l'esatto contrario di quello che dite vi stiamo chiedendo per favore andate a vedere per fare delle altre commissioni sistematicamente mancano le carte e ripeto non è un caso la frase che ha fatto storia delle commissioni state vi abbiamo dato i titoli è una questione politica allora se non riuscite a comprare questo non vi nascondete dietro un dito qui ripeto nessuno sta mettendo in discussione la valenza dell'operato dell'ufficio tecnico ripeto non venite a dire soprattutto la sottoscritta ma l'assessore in questo caso l'assessore Totaro ha il dovere di venire in commissione con le carte non con i titoli ci sono altri interventi ok chiudiamo il intervento e poi passiamo alla direzione di nuovo grazie presidente io chiedo ai colleghi della maggioranza se per poter esprimere la propria opinione in consiglio comunale sia necessario votare a favore di un provvedimento perché sembrerebbe che se qualcuno legittimamente decide di astenersi tutte le considerazioni che fa in precedenza perdono automaticamente di considerabilità siccome voterò a favore spero che quello che starò per dire possa essere accolto almeno dal punto di vista dell'ascolto anche da ognuno di voi ebbene alcune cose vanno precisate perché per l'ennesima volta avete cercato in maniera abbastanza goffa per fortuna di chi ci ascolta di far passare il messaggio che dai banchi della minoranza ci sia stata una sorta di di critica nei confronti dell'ufficio tecnico voglio chiarirlo spero senza voler senza scavalcare gli altri consiglieri di minoranza voglio chiarirlo a nome di tutti non l'abbiamo mai fatto al contrario abbiamo fatto notare alcune slagure della componente politica in particolare dell'esecutivo di questa amministrazione comunale poi anticipo una riflessione che magari coinvolgerà questo consiglio comunale della città di Ortona nelle prossime settimane siete talmente siamo talmente noi diciamo siamo talmente favorevolmente colpiti dal lavoro che fa l'ufficio tecnico in questo momento che saremo contro a quello che sembrerebbe essere il progetto dell'amministrazione comunale ossia di smantellare spacchettare l'ufficio tecnico del comune di Ortona se riterrete che quella sia la cosa migliore da fare non ci occorremo ma allora non fosse così ci trovereste assolutamente d'accordo nel cui non potete venire in questo consiglio comunale e far passare il messaggio che è l'opposizione che contesta di più